Dai, fatti vedere chi li ha trovati qui? Ma cosa sono? Oh, nei funghi? Ma chi, quelli quanti? Chi li ha trovati? Chi li avrà mai trovati? No, 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 guardatelo, si nasconde perché modesto non vuol far capire che l'ha trovato lui i funghi, ne avesse trovato uno, lui, li ha trovati tutti i suoi fratello, lei e te li hai trovati i funghi? Ti ho detto che io sono fissato con i moschietti, quelle cose, quando trovo un posto, porto i suoi funghi. Quanti saranno? 22 kg erano, no?